La ricostruzione della storia e della civiltà egiziana è stata redatta sulla base di numerose fonti prodotte dagli egizi, e indirettamente, lasciate da altri popoli venuti in contatto con la civiltà egizia. La storiografia egiziana rispondeva a dei criteri. In primo luogo di ordine pratico, le attività amministrative e giuridiche dovevano avere un resoconto cronologico. Quindi era indispensabile avere un elenco dei faraoni per poter avere una precisa localizzazione. Esisteva poi una necessità di tipo concettuale, la storia vista come un proseguimento dell'inizio del mondo, per questo andavano memorizzati i fatti fissandoli in modo sacrale. La registrazione di avvenimenti storici poteva essere talvolta usata per uso politico, come gli annali di Tutmosi III, o la battaglia di Kadesh per Ramses II. Così esisteva un'analistica. Ad esempio nella Pietra di Palermo, si tratta di un importantissimo documento purtroppo diviso in più frammenti. Il frammento principale è custodito a Palermo, ed è un pezzo di diorite dall'aspetto insignificante che non misura più 43 cm di altezza per 30 di larghezza. Altri frammenti furono recuperati più tardi e si trovano ora al Museo del Cairo. Il testo, inciso sia sul fronte che sul retro del documento, consisteva in un lungo elenco di re, dei nomi delle loro madri, e di anno in anno il livello raggiunto dalla piena del Nilo. Nel cosiddetto canone di Torino, abbiamo i frammenti di un'attendibile cronaca che non si discosta molto da quella di Manetone. Si dice che questo papiro ieratico risalga pressappoco al regno di Ramses II, 1290-1224 a Vati Cristo. L'insegnamento per Merikara. È un lungo testo in cui il faraone Cheti II dà una serie di ammonimenti e di consigli al figlio Merikara, della decima dinastia, che dovrà prendere il potere. Siamo durante il primo periodo intermedio, un'epoca di continui disordini, in cui la stessa figura del faraone viene messa in discussione. Il faraone, ora, viene rispettato e venerato solo per le sue opere di giustizia verso il popolo, e non semplicemente perché rappresentante del Dio sulla terra. Cheti II, nella foga del discorso, finisce per esaltare più le sue opere che dare consigli al figlio, ma il testo è molto interessante perché delinea, forse senza volerlo, il difficile clima politico del tempo. Le lettere di Amarna. E, un lotto di circa 380 documenti, in scrittura cuneiforme su tavolette d'argilla, rinvenute a Tele e Lamarna, nel Medio Egitto nel 1887 da una contadina egiziana che scavava nel suo cortile. Dapprima queste tavolette furono considerate dei falsi, ma ben presto la comunità scientifica riconobbe l'autenticità dei manufatti. Negli anni successivi, gli archeologi cercarono molto intensamente le tavolette di argilla per conto di istituzioni pubbliche e private. Fino ad ora sono state recuperate in tutto 360 tavolette. Questo ritrovamento si suppone appartenga all'archivio di stato di Akhetaton. Il contenuto di queste tavole si basa sulle corrispondenze di due successivi re dell'Egitto e i loro corrispondenti, i sovrani liberi nel Medio Oriente e a Cipro e vari re vassalli, principi o ufficiali in Aram e in Palestina. La lingua delle tavole, con alcune eccezioni, è l'assiro babilonese, accadico, con molte parole in dialetto arameo simile all'ebraico. Il periodo delle lettere può essere stabilito con una certa precisione. Erano indirizzate a Nimuria, che era a Menofi III, e a Nafuria, che era a Menofi IV, a Kenaton. Le lettere inviate ad Menofi III furono probabilmente portate ad Akhetaton dagli archivi di Tebe. Questo archivio è di importanza storica di un periodo precedente all'entrata degli israeliti a Canaan. Nelle tavolette scritte dal re vassallo di Gerusalemme, Urusalim, al Faraone, vengono menzionati ripetutamente gli Abiru, che minacciarono la terra dalla parte orientale del Giordano. Con l'aiuto di varie lettere è stato stabilito che Abiru e Sagaz, Abatu, rappresentavano lo stesso popolo. La tavola di Abidos La tavola di Abidos, un documento con il più importante elenco di re rinvenuto, è inciso sulle pareti del Grande Tempio che costituisce uno dei luoghi di maggiore interesse per chi visita l'Egitto. La scena rappresenta il re Seti I accompagnato dal figlio maggiore Ramses in atto di fare offerte a 76 antenati non effigiati in persona, ma rappresentati dai cartigli contenenti loro nomi in scrittura geroglifica. Anche qui Menes figura a capo dell'elenco. Le fonti scritte le possiamo suddividere in due gruppi. Da un lato, gli scritti profani redatti in corsivo su materiali non pregiati, papiro, o straca, cioè pezzi di ceramica a fondo liscio o vasellame dove era possibile scrivere. Dall'altro, le iscrizioni religiose in maggior parte in geroglifico scritti su materiali più resistenti, pietra, metallo, legno, in quanto dovevano essere durevoli per essere consultate nel tempo, normalmente queste iscrizioni si trovano nei monumenti. Non possiamo tralasciare tra le fonti storiche, il vastissimo patrimonio letterario dell'antico Egitto che ci è pervenuto in gran parte su rotoli di papiro, spesso conservati in anfore, ma anche grazie a iscrizioni monumentali e decorative che abbellivano le tombe dei defunti. Di questo genere fanno parte opere, i testi a carattere religioso. Testi delle piramidi Sono conosciuti e convenzionalmente chiamati testi delle piramidi, quegli scritti geroglifici incisi sulle pareti di camere sepolcrali di alcune piramidi risalenti alla Quinta e alla Sesta Dinastia. Precisamente a quella di Unas, Quinta Dinastia, e dei sovrani Pepi I, Merenra e Pepi II, Sesta Dinastia. Si tratta di formule ed incantesimi, le cui concezioni, a volte anche primitive e discordanti tra loro, venivano redatte ad esclusivo beneficio del sovrano defunto. Un lasciapassare che gli permetteva di raggiungere il sole Ra, nel cielo. Testi dei sarcofagi Si trattava, infatti, di testi redatti in geroglifici, ieratici ed emotici, e di scene illustrative presenti sui sarcofagi oppure scritti su rotoli di papiro e posti all'interno di questi. I, testi dei sarcofagi, conobbero varie evoluzioni rispetto ai, testi delle piramidi. Innanzitutto, in questi ultimi erano totalmente assenti le scene illustrate e in seconda analisi, con i sarcofagi fanno la comparsa testi nuovi ed inediti, come quelli che vanno sotto il nome di Libro dei due cammini Libro della Hamduat Libro delle porte Libro delle caverne Libro dei morti Così come convenzionalmente si era data una denominazione alle incisioni e dai testi trovati nelle piramidi e sui sarcofagi, anche per queste nuove raccolte fu usato un nome convenzionale Libro dei morti Un nome, forse, addirittura arbitrario Gli antichi egizi, infatti, non avrebbero mai qualificato con il termine Morto, una persona umana Non secondo il loro concetto Morire, era, per quel popolo dalla complessa Straordinaria concezione filosofica Solo un, momento di transizione Per comodità, dunque, si è convenuto di dare all'insieme di questi nuovi scritti ed illustrazioni, il nome di Libro dei morti, e così faremo anche noi Inno ad Aton Celebre scritto rinvenuto sulle pareti della tomba di Ayad Amarna che sintetizza con enfasi Il contenuto della religione di Amarna, il monoteismo professato dal faraone eretico Amenofi IV alias Achenaton Oltre agli scritti di carattere religioso, che sono i più diffusi e riprendono in parte tradizioni preistoriche I testi delle piramidi, risalgono all'antico regno Anche se spesso trasmessi da copie posteriori Scritti morali Genere sapienziale Che culmina nelle massime di Ptaotep Scientifici Testi medici Speculativi Teologia menfita Naturalistici e geografici Rappresentazioni del mondo e della fauna nel Tempio Solare di Nius R Liste di domini funerari Giuridici Decreti regali e contratti privati Storici Costituiti soprattutto da autobiografie di personaggi Ma anche da cronache ufficiali come gli annali della pietra di Palermo Narrativo dialogici Brevi scenette di genere raffigurate nelle tombe Resoconti di viaggi ed esplorazioni in Asia e in Africa Sono riportati dalle biografie di Ueni e dei principi di Elefantina Il periodo considerato classico già dagli Egizi appartiene all'Egiziano Medio Dal 2100 avanti Cristo Che sopravvisse in certi usi fino alla scomparsa dei Faraoni Quando da lungo tempo tale lingua era desueta E nel quale furono tradotte e commentate anche opere del periodo precedente Testi religiosi Massime di Ptaotep Il trattato di chirurgia del papiro Smith Tale fase è contraddistinta da una grande produzione letteraria di ispirazione multiforme Continua una massiccia composizione di testi religiosi e funerari I testi dei sarcofagi Che incorporano inni, rituali, formule magiche, drammi sacri La forma drammatica è conservata anche dal cerimoniale per l'intronizzazione di Sesostri I E dal mito di Osiride Celebrato durante le feste di Abidos Si diffonde la narrativa con opere di vigore stilistico Avventure di sinue e racconto del naufrago La collana di leggende storiche contenuta nel papiro Westcar Per citare le più famose Non senza rapporti con l'attitudine alla descrizione Che si sviluppa in parecchie autobiografie private E con un intento propagandistico Infatti ha la letteratura pessimistica Causata da un periodo torbido intorno al 2200-2100 a.C. Con opere complesse aventi diversi tratti comuni Il suicida, canto dell'arpista, ammonimenti di Ipu Subentra dopo il rafforzamento dello Stato una direttiva politica In forma morale, insegnamento per Mericara Polemica, insegnamento di Amenemat I Profetica, profezia di Neferti Celebrativa, panegirico regale Innivari, satirica, insegnamento di Cheti Che si manifesta anche nelle opere di intento più genericamente narrativo e retorico Fra queste ultime, i discorsi dell'Oasita Facondo Di Sisok, di Kakeperrasom Lo sforzo di educare una classe di amministratori Comporta sia iniziative di propaganda Il già menzionato insegnamento di Cheti O Satira dei Mestieri Sia la creazione di un genere didascalico Rappresentato da sussidiari scolastici Libro della Chemit Come da opere enciclopedico Lessicografiche Gionomastica, in cui si codifica la tendenza a classificare e catalogare Che è propria di varie attività fin dall'antico regno Impulso ricevono pure l'epistolografia e la storiografia Individuabile in sezioni limitate delle opere politiche e narrative Perciò sempre ispirata dal faraone E in taluni resoconti schematici Annali di Tutmose III Circa la forma Si suppone un largo uso di prosa cadenzata Oltre a una certa varietà di espedienti retorici Allitterazioni Parallelismi Antitesi Spinti talora al virtuosismo Inni redatti come cruciverba L'esposizione avviene in prima e in terza persona Il dialogo è alla base del testo del suicida e delle azioni drammatiche La letteratura scientifica è presente con trattati vari di medicina Papiri Smith ed Ebers principalmente Veterinaria Papiro di Ilan Calcolo e geometria Papiri di Mosca e Rindi Sotto forma specialmente figurata Si possono menzionare saggi di scienze naturali Zoologia Botanica Mineralogia Questa letteratura Tutta documentata per il Medio Regno Fu ulteriormente arricchita nell'età successive Anche se con l'influsso della parlata neo-egiziana Tra queste ultime vanno ricordate le fonti prodotte dai greci Presenti in Egitto fin dal VII-VI secolo a.C. Come mercenari, commercianti e viaggiatori Questo periodo costituisce la fase finale dell'epoca faraonica I greci arrivano dunque in un mondo che ha raggiunto la sua pienezza culturale Le notizie fornite dai primi greci recatisi in Egitto originarono un flusso aneddotico Che non ci è pervenuto Come quello che doveva trovarsi nell'opera non conservatasi di Ecateo di Mileto Della fine del IV secolo a.C. Esso confluì in Erodoto Le cui, storie, rappresentano la prima importante fonte omogenea sull'Egitto Erodoto visita il paese attorno al 450 a.C. Ed è il primo ad occuparsi della storia egizia Che, se risulta fantasiosa per le prime dinastie Diventa sempre più fedele e documentata nei periodi a lui più vicini Egli interroga i sacerdoti egizi e raccoglie una grande quantità di notizie Con Omero nasce il mito di un Egitto ricco Saggio e situato ai confini del mondo Nell'Odissea Ulisse accenna all'Egitto come a una terra da cui è difficile tornare Nell'Iliade, è presentata come una terra dalle ricchezze leggendarie Ove si trova Tebe dalle cento porte Con allusione ai piloni d'accesso ai templi cittadini Eschilo, nel IV secolo a.C. Manifesta un atteggiamento apprezzante nei confronti degli Egizi Perché questi si erano alleati con i Persiani Nemici storici dei Greci Platone parla dell'Egitto nel Timeo E nella Repubblica Come di un paese diviso in caste immutabili nei secoli Governato da individui superiori e dalla saggezza millenaria Tanto da doversi prendere a modello Qualche notizia sull'Egitto si trova nei frammenti pervenutici di Ecateo di Abdera Un resoconto più ampio è fornito da Diodoro Siculo Che soggiorna nel paese nel 59 a.C. E si avvale, oltre che della sua esperienza diretta Anche delle opere di autori precedenti Come Ecateo di Abdera Agatarchide di Cnido e De Rodoto Strabone Che visse alcuni anni ad Alessandria E si spinse fino alla proma cateratta con Elio Gallo Prefetto d'Egitto Nel 25-24 a.C. Tratta dell'Egitto nel diciassettesimo libro delle sue Geografiche Plinio il Vecchio 23-79 d.C. Nella sua Naturalis Historia Si occupa dell'Egitto dal punto di vista geografico e naturalistico Plutarco 50-120 d.C. Nel suo trattato De Iside e Tosiride Racconta la leggenda relativa ai due dei Seguendo il mito egizio ma aggiungendovi interpretazioni allegoriche Giovenale 47-127 d.C. Accenna in modo satirico agli egizi come adoratori di gatti e coccodrilli Verso il 150 d.C. Claudio Tolomeo parla dell'Egitto nella sua opera geografica Elencandone le diverse regioni e le loro principali località Nel V secolo d.C. Un erudito egiziano Orapollo Scrive un trattato sui geroglifici Proponendo per ogni segno un'interpretazione allegorica Che risulterà fuorviante nei successivi tentativi di decifrazione Nel 641 Gli arabi islamizzano il paese Cancellando la cultura autoctona Fino al XVII secolo L'interesse per l'Egitto è limitato ai pellegrini europei diretti in Terra Santa L'idea di un paese dispensatore di una sapienza arcana e salvifica Permane fino all'illuminismo La riscoperta dell'Egitto si ha con la spedizione di Napoleone del 1798-1799 In seguito alla quale venne pubblicata la Descrizione dell'Egitto Nelle cui tavole i monumenti egizi furono illustrati minuziosamente Durante la spedizione venne ritrovata la stele di Rosetta Che permise a Jean-François Champollion Nel 1822 La decifrazione dell'antica scrittura dei Faraoni Prima della spedizione napoleonica e prima della possibilità di comprensione della lingua egizia Le fonti secondarie Rappresentate dagli autori classici Dalla Bibbia E da qualche racconto di viaggiatori Costituivano il solo approccio possibile alla cultura del paese Le fonti primarie non potevano essere lette e correttamente interpretate Per questa ragione, la nascita dell'Egittologia, la scienza che studia tutti gli aspetti dell'Egitto antico, si fa coincidere con le scoperte di Champollion Ero-Leon 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 Grazie a tutti.